Questa è una pasta madre da mantenimento, cioè ha passato circa 19 ore a 18 gradi. Tolgo la parte che stava dentro il contenitore, ve ne accorgete perché ha la crosta morbida, e tolgo tutta la crosta dura. Uso un mix di farine, due terzi di farina panettone, un terzo di farina per pizza e acqua fredda di frigo. Il rapporto che uso è 1,25 di 43% di acqua, ma con l'acqua ne tengo un grammo sotto. Esempio, se mi servono 86 grammi di acqua, ne metto 85, e valuto durante l'impastamento se aggiungere quel grammo mancante, semplicemente spruzzando la macchina. Temperatura di chiusura 26 gradi, perfetto per far partire la fermentazione. Poi procedo alla laminazione, con le pieghe e spiralatura, cercando di eliminare tutta l'umidità residua, girando molte volte l'impasto durante questo processo. E alla fine lo rimetto nel suo contenitore basso, avvolta in un canovaccio di fibra naturale. Ezzülmero 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 Grazie.